Renato Puglisi, 30 anni, di Siracusa, assunto dal 30 di agosto il comando della Compagnia dei Carabinieri di Urbino, 13 stazioni sparse in 23 comuni. Puglisi, nell'arma dal 2009, subentra al suo parigrado Francesca Baldacci, che è andata a rilevare il timore della Compagnia Carabinieri di Piedimonte Matese. Puglisi arriva direttamente da Milano, dove è stato comandante del nucleo operativo Milano Duomo e prima ancora è stato aiutante di campo del vice comandante generale dell'arma dei Carabinieri. Puglisi, fisico atletico, sguardo diretto, forgiato orgogliosamente alla scuola militare dell'Annunziatella di Napoli, ha le idee molto chiare su quali saranno le priorità alle quali darà seguito nel prossimo periodo. In primis il cittadino e le sue esigenze ed aspettative in termini di sicurezza e tutela del patrimonio, con un rapporto dal basso verso l'alto, per meglio e in maniera più incisiva indirizzare i servizi operativi dei suoi uomini. Ma essendo la Compagnia di Urbino sparsa in un territorio ampio, dove però la città ducale svolge un ruolo centrale con la presenza di un ateneo, e per dare anche continuità al profico lavoro svolto dal suo predecessore, che anche le tematiche imperniate sul mondo giovanile e le violenze di genere saranno filoni a cui verrà data particolare attenzione. Questa mattina, in un incontro con gli organi di stampa, il comandante Puglisi si è detto particolarmente orgoglioso, dopo la formante esperienza milanese, di prestare servizio ad Urbino, che sto scoprendo giorno per giorno, alla quale mi dedicherò per diffondere una cultura della legalità e assicurare ordine e sicurezza.